Era il 3 novembre del 2012 e il mio contratto scadeva il 4. A fine giornata mi dissero che non lo avrebbero rinnovato, nonostante le promesse. Eccomi qui, disoccupata. Il Natale alle porte e un bimbo piccolo a cui pensare. Nel lavoro precedente avevo perso i contatti. L'unica mansione con cui mi confrontavo assiduamente era essere mamma. Per capire cosa avrei voluto e potuto fare provai a pensare alle mie esperienze e alle mie passioni. Il disegno fin dalla prima infanzia, 15 anni da art director nella tipografia di papà, le stagioni da animatrice con i bambini e la carriera in cucina. Sembravano realtà inconciliabili a dire il vero, fino a quando iniziai ad addobbare l'albero di Natale e mi venne in mente di farlo con i biscotti che avevo decorato con mio figlio. Una illuminazione. Organizzai il mio primo laboratorio di decorazione dei biscotti e fu un successo. Era incredibilmente bello ed appagante insegnare ad adulti e bambini a lasciarsi andare, ad esprimere la loro fantasia, plasmare, assemblare. Alla fine di ogni corso mi sentivo ringraziare per quel tempo sospeso, trascorso tra profumi e colori, lontano dagli impegni di ogni giorno. È così che novembre è divenuto negli anni il mese in cui preparo i miei laboratori natalizi, a cui si sono aggiunti poi quelli per la Pasqua, la festa del papà o della mamma, ed ognuno di questi mi ricorda come una sconfitta può trasformarsi in una splendida opportunità. Grazie di cuore ai miei allievi più assidui, tutte quelle mamme che con i loro cuccioli mi hanno permesso di trasformare un sogno in realtà.